Buongiorno a tutti, io sono sempre VictorLas98 Allora, per iniziare con il video di oggi vi ricordo che sul sito di Pampling, trovate il linkato e il link iscritto qui sotto Tutte quante le magliette in catalogo per qualche giorno costano 10,90€ Ce ne sono tantissime con stampe nerd, come quella che indosso a tema mercoledì Con l'etichetta del Jack Daniels Ma ce ne sono tante altre, ve ne metto in impressione a qualcuna E se volete avere uno o più di questi prodotti, potete aggiungere al vostro acquisto un paio di calze a vostra scelta dal catalogo E se usate il codice VILASZLO, le calze non le pagate Quindi se vi interessa sapete cosa fare, ora però, bando alle cianci, iniziamo subito con il video di oggi Sigla! Allora, c'è un video che io volevo fare da tantissimo tempo E quando dico tantissimo tempo, intendo anni E credo di averlo già girato Ma per qualche motivo mi sa che non l'ho mai caricato Perché ho questo effetto Mandela incredibile Di me che parlo della serie di cui sto per parlare E che carico il video Vado a cercare e il video non c'è Cioè, ho cercato dappertutto Ma questo video non esiste E quindi mi son detto, vabbè, a questo punto Facciamolo Non so perché io mi ricordi di aver già registrato questo video Però vabbè Oggi voglio parlare di una serie che si è conclusa nel 2013 E che conta ben nove stagioni E che è andata in onda a partire dal 2005 E in tantissimi nel corso del tempo Mi avete chiesto di parlare di questo prodotto E quindi mi sembrava giunto il momento di farlo Mi riferisco a The Office Allora, io l'ho detto molte volte Nel corso dei vari video che ho caricato qui sul canale La mia serie comedy preferita è Scrubs Scrubs è quella serie che io guardo quando sono triste Che guardo quando sono felice Che mi fa stare bene sempre E anni fa io guardai le prime puntate di The Office Ma non mi dissero nulla Perché tutti me ne parlavano Io non l'avevo guardata quando andavo in onda Non ricordo perché Però non la seguivo Avevo provato per appunto a guardarla tempo dopo Però non mi diceva nulla I personaggi non mi piacevano E avevo lasciato stare Poi ho conosciuto la Svet E lei ha insistito più volte dicendo Guarda The Office Vai oltre le prime puntate Che non sono poi questo granché L'ho ascoltata e mi sono innamorato E perché vi parlo di Scrubs? Perché per quanto io adori Scrubs Nel tempo The Office è riuscita a scalzarla Io considero questa serie La miglior comedy mai creata Perché se io guardo Scrubs adesso Mi rendo conto che molte battute sono invecchiate Perché magari erano battute Su cose che un tempo si potevano dire tranquillamente E che oggi invece magari Non si possono più dire Non si è più soliti dire Quindi inizia a riportare i primi segni del tempo Perché le sitcom, le comedy Sono le serie più facili A invecchiare Perché per l'appunto La comicità muta tantissimo nel tempo Ecco The Office è riuscita A non invecchiare più di tanto Per un motivo molto semplice Tutte le battute scorrette Le cose che ti fanno fare Sono volute Cioè già all'epoca Erano battute affidate A personaggi Che poi vengono criticati Viene fatto capire Che quello che viene detto Dal tal personaggio Non è considerato Teoricamente accettabile E proprio per quello fa ridere Perché in The Office Ci sono tantissimi personaggi Che dicono cose Veramente discutibili Perché sono personaggi Che non riescono a inserirsi Nella società Penso al Michael Scott Di Steve Carell Che è un personaggio Che ha tantissimi problemi di autostima Problemi sociali Che ha questo disperato bisogno Di essere amato alle persone Lui vuole piacere E questa sua voglia di piacere Lo porta a comportarsi In maniera semplicemente assurda E The Office È stata una serie piuttosto importante Proprio perché Se non l'avete mai guardata È girata come se fosse un documentario Sostanzialmente C'è questa troupe documentaristica Che filma quotidianamente Per anni e anni La vita in questo ufficio Nella tranquilla cittadina di Scranton In Pennsylvania Ufficio di un'azienda cartiera La Dunder Mifflin E questa cosa L'ho sempre trovata Molto particolare Perché il presupposto È Ovviamente Noiosissimo Cosa ci può essere di interessante Nell'ufficio di un'azienda cartiera? Assolutamente nulla Però È importante Perché è una serie Che ha introdotto La questione del Mocumentary Molti pensano che Ad aver introdotto Questa Questo concetto In una comedy Sia stata Modern Family No Anche perché The Office Quella di cui stiamo parlando È il The Office Statunitense The Office Nasce come serie britannica Creata da Ricky Gervais E Stephen Merchant Quindi Oggi stiamo parlando Del The Office Remake Cioè È il remake Statunitense Però in realtà The Office Come idea Nasce ancora prima Ora La serie britannica Non è male Io adoro Ricky Gervais Adoro Merchant E tutto quello Che ha fatto Nella sua carriera Però secondo me Se guardate La serie britannica Guardate quella Statunitense Non c'è paragone Ed è raro Che capiti Che la serie Statunitense Sia migliore Dell'originale Britannica Perché Questa è una pratica Che Dai primi anni 2000 Fino qualche anno fa Si è utilizzata abbastanza C'erano tante serie Britanniche Che poi venivano Trasposte In remake Statunitensi E c'è stato solo un altro caso In cui secondo me Il remake Si è rivelato essere Superiore all'originale Che è naturalmente Shameless Per me Shameless US È nettamente superiore Rispetto A Shameless UK Per quanto Il The Office UK Sia divertentissima Per l'amore del cielo Io Sono rimasto Molto più colpito E mi sono innamorato Decisamente di più Di The Office US Perché Secondo me Hanno scelto Gli attori giusti Anche i personaggi Hanno un'evoluzione Molto più interessante E Secondo me È una serie Su cui c'è tantissimo Da dire Perché The Office US È Di base Parte da un'idea Che non dovrebbe Essere interessante Ma lo diventa Perché si basa Tutto su due Elementi Fondamentali Che di solito Sono gli elementi Più importanti Delle serie comedy La scrittura Perché comunque Le battute Devono sempre Essere Araffica Intelligenti Interessanti Devi avere un motivo Per cui tu Vuoi continuare A guardare una puntata Le storie Per quanto bizzarre Assurde Però poi Hanno sempre Dei risvolti Che per quanto Mi riguarda Emotivamente Sono potenti Perché comunque È una serie In cui Ti scende più di una volta La lacrimuccia Esattamente come In Scrubs Per l'amor del cielo Però qui Davvero Ci sono delle puntate In cui la scrittura Raggiunge dei livelli Altissimi E L'altro elemento fondamentale Sono i personaggi In The Office Ci sono tantissimi personaggi Ogni tanto Introducevano Anche Volti nuovi Perché comunque Giustamente Bisognava cercare Di mantenere Viva L'attenzione Dello spettatore E Da The Office Sono usciti anche Degli attori Di un certo livello Cioè Il successo Di Steve Carell È arrivato Anche Grazie A The Office Ad esempio John Krasinski Che interpreta Jim È uscito Da lì John Krasinski Ha iniziato Con The Office E adesso È conosciuto Per gli A Quiet Place Di cui è regista E interpreta Anche nel primo Poi C'è un flashback Con lui Nel secondo Però nel secondo Non è assolutamente Il protagonista C'è Cillian Murphy Comunque sia Viene dalla comedy E poi è passato A qualcosa Di completamente diverso Questa cosa L'adoro Pensate Anche ad esempio A Ed Helms Ed Helms Non era particolarmente Conosciuto Prima di The Office Poi da lì È passato A Una notte da leoni Ed è diventato Il personaggio Che tutti conosciamo Però Il suo Andy Bernard Ad esempio Per me È un personaggio Veramente interessante Sotto tanti Punti di vista Quindi Per me È una serie Davvero Clamorosa Anche perché Riguardandola adesso Nonostante magari Siano invecchiati Alcuni riferimenti Tecnologici Ovviamente Perché Ad esempio Si parla Di smartphone Timidamente Solo Nelle ultime due stagioni Perché comunque L'ultima È nel 2013 Quindi Si parla di una serie Che è finita dieci anni fa Però A parte quello Secondo il mio modesto punto di vista Ci sono un sacco di cose Che sono Molto attuali Tra l'altro È una serie in cui Si parla tantissimo Della crisi Che colpì Stati Uniti America Nel 2008 Perché comunque La serie è uscita prima Quindi ti fa vedere un po' Com'è l'economia statunitense Negli anni prima della crisi E come è stata influenzata dopo Non che sia Il suo intento principale Per l'amor del cielo L'intento principale di The Office Non è quello di parlare Dell'economia del paese Ma È una serie che comunque Ti mette Tutti Quegli Tutte quelle conseguenze Dei problemi Della società statunitense Quindi è anche molto critica Sotto un certo punto di vista A un certo punto C'è il personaggio Del senatore Che Offre spunti Per parlare Senza metterla troppo al centro Di politica americana Di come funziona Dell'ipocrisia Che sta dietro A certi ragionamenti sociali È una serie che comunque È riuscita a fare tante cose E interessanti Essendo comunque durata parecchio E A parte L'ottava stagione Secondo me Sono tutte ottime Perché ad esempio C'è stato un calo All'ottava E poi la nona Già si era ripresa tantissimo Perché c'è stato un calo All'ottava stagione Perché a un certo punto Steve Carell Ha lasciato lo show Non si è mai capito bene Che cosa sia successo È stato scritto anche un libro Da Un giornalista americano Su The Office Che è considerata Una delle comedy più importanti Tra quelle statunitensi Steve Carell A quanto pare Non voleva lasciare lo show Lui voleva Firmare il contratto Per altri due anni E arrivare fino alla fine Della serie Non si è capito Cosa sia successo La serie andava in onda Sulla NBC Infatti Da noi la trovate Su Amazon Prime Video E su Netflix All'estero se non sbaglio È su NBC Peacock Comunque sia Era di NBC E sembra che fosse stata Proprio la rete A non voler rinnovare Il contratto a Carell Addirittura c'è la hairstylist Che ha commentato Intervistata Dicendo Boh Lui ci ha sofferto Veramente tanto Avrebbe voluto continuare Ma forse Non hanno pagato abbastanza Forse ha chiesto Troppi soldi Non si è mai Non c'è mai stata Una dichiarazione ufficiale Secondo alcuni Sono state esigenze narrative Perché c'è da dire una cosa Per quanto a me sia dispiaciuto Che a un certo punto Michael Scott Che era l'anima di The Office Se ne fosse uscito Dalla serie È vero anche Che la conclusione Del suo personaggio Per me è stata perfetta Forse un po' frettolosa Cioè diciamo che C'è stato un momento In cui si nota Che secondo me Volevano preparare La sua uscita Ma non sembrava Proprio programmato Cioè l'hanno preparata bene Se la sono giocata bene Ma è come se a un certo punto Durante la fase di scrittura Qualcuno avesse detto Ragazzi Guardate che Dovete scrivere L'uscita di scena Di Steve Carell E i sceneggiatori Si sono guardati E hanno detto Ma che cazzo facciamo Vabbè La chittiamo bene Secondo me è stato Un incidente di percorso Le cui dinamiche Non verranno mai Chiarite più di tanto E l'ottava stagione Purtroppo perde moltissimo Senza Michael Scott Anche perché Inseriscono Un personaggio nuovo Che si chiama Robert California Interpretato Da James Spader Che secondo me Non è questo granché Aveva senso Inizialmente Poi a un certo punto Si è perso molto per strada E infatti poi È stato Tolto di mezzo Anche lui Hanno poi aggiunto Anche altri personaggi Come la Nelly Di Catherine Tate Che è la donna Di Doctor Who Per chi guarda Doctor Who Comica Britannica A me Fa morire da ridere Catherine Tate Anche il suo personaggio Era molto fastidioso All'inizio Poi si è ridimensionato Ci sono tanti personaggi In The Office Che iniziano In un modo E si evolvono Completamente In maniera diversa Ed Helms Ad esempio Con il suo Andy Bernard Diciamo che Inizia come personaggio Che doveva star lì pochissimo Secondo me Volevano liberarsene Dopo Dopo qualche puntata Ma Il gradimento del pubblico Nei suoi confronti Fu talmente alto Che lo fecero tornare Modificando La sua caratterizzazione Se vi ricordate Andy Bernard Iniziava Come un personaggio Antipatico A rivista Che voleva Fare le scarpe Ai colleghi E diventa invece poi Un personaggio Con una caratterizzazione Differente Ma il punto È che sono riusciti Narrativamente A trovare un modo Per farlo cambiare E quindi poi Finisce che Lo adori Perché Andy Bernard È un personaggio patetico È questo Omino Che non sa Cosa vuole dalla vita Anzi In realtà Allo spettatore È palese Cos'ha sempre voluto Andy Bernard È forse per questo Che ti affezioni Perché quando poi Piano piano Inizi a capire Qual è Quella cosa Che avrebbe sempre voluto Tu Quasi lo incoraggi Nella mente Dici dai Andy Che lo capisci Dai che lo fai Quindi È anche difficile Scegliere i personaggi Preferiti in The Office Io cito una frase Che dice sempre la Svet Quando pensi Al tuo personaggio Preferito Di The Office Devi mettere in conto Che prima C'è Michael Scott E poi C'è il tuo personaggio Preferito Michael Scott Di default Non può Non può Evitare di essere Il personaggio Preferito Cioè non c'è Prima c'è lui E poi ti scegli il preferito Ma lui è lì Perché È Steve Carell Perché Il personaggio È Fantastico E tu Ridi con Michael Ti incazzi con Michael Soffri anche con Michael Perché comunque Sono riusciti a un certo punto Piano piano A inserire Sempre di più Personaggi E situazioni Che Ti prendono Ti fanno Ti fanno venire voglia Di sapere come va avanti Perché è una comedy Certo Però Ha una sua trama orizzontale Cioè I personaggi Fanno cose Vivono situazioni E piano piano Ci sono sempre Situazioni che Scandiscono un po' La vita dei personaggi Quindi c'è una sorta Più che Cioè Più che una storia Si va avanti a cicli C'è quella stagione In cui magari C'è una data situazione Che si deve risolvere Ad esempio Nella nuova stagione C'è una cosa Riguardante Jim e Pam Che è sicuramente interessante Anche Jim e Pam Sono due personaggi Importanti Perché comunque È una storia d'amore La loro Che viene Effettivamente Portata avanti In maniera Per me Eccezionale Non è mai Eccessivamente Stucchevole Quando ci sono Dei problemi Li affrontano È tutto molto Realistico La cosa che mi piace Di The Office È proprio il fatto Che trattandosi Di un Mocumentary Tu alla fine Ti ritrovi A guardare Il documentario Che poi a un certo punto Verrà palesato Nella serie Quindi A un certo punto Diventa quasi meta Nella nona stagione Perché la nona stagione È l'ultima E quindi Già dalle prime battute Tu capisci Che si sta andando A concludere qualcosa Perché nella nona stagione La troupe Del documentario Inizia A sfondare La quarta parete A farsi sentire E quindi A un certo punto Loro stanno discutendo Del documentario Che è quello Che stai guardando tu Cioè È stranissimo Sembra quasi Che loro si rivolgano a te È particolare Come cosa Ed effettivamente Fu molto innovativo Che tutti a dire Eh sì sì Modern Family Modern Family Modern Family Secondo me Non ha fatto neanche Lontanamente Quello che ha fatto The Office Io l'ho sempre trovata Una comedy Molto sopravvalutata Non mi ha neanche fatto ridere Più di tanto Devo essere sincero The Office È una serie Invece molto cinica Che riesce a ridere Di cose Di cui non bisognerebbe Ridere E poi Ovviamente ragazzi Se chiedete a me Al di là di Michael Scott Chi è il mio personaggio Preferito Non posso Non dirvi Dwight Dwight Interpretato A Rainn Wilson È credo Uno dei personaggi Più assurdi A cui non puoi Non voler bene Che siano mai Stati creati In una serie Comedy Nel senso che Anche lui Iniziava in un modo E poi prosegue In un modo Completamente diverso Inizialmente Dwight Era palesemente Caratterizzato Come Un tizio Un po' Sfigato Che non ha successo Con le donne Uno stereotipo Abbastanza facile Del nerd Sappiamo che poi Non è così Però è Quello stereotipo Lì Mano a mano Che si va avanti Invece La caratterizzazione Di Dwight Cambia E diventa Una sorta di Bizzarro Maschio Alfa Che si considera Una macchina Del sesso Ma soprattutto A scopo Riproduttivo Pragmatico A dei livelli Esagerati Che è Credulonissimo E infatti Le gag di apertura Con gli scherzi Di gym Per quanto mi riguarda Sono tra le cose Più divertenti Mai viste In una serie televisiva Per cui The Office È un prodotto Molto ambizioso Perché poi Aveva un intento Secondo me Diverso Rispetto alla serie Creata da Merchant E da Ricky Gervais Che poi Loro hanno creato Anche questa Ovviamente Però Rispetto all'originale Secondo me Va oltre Riesce a creare Una connessione maggiore Tra i personaggi E lo spettatore I personaggi Hanno una scrittura E un'evoluzione Nettamente più interessante Forse È anche il fatto Che siano riusciti A spingersi Un po' più in là Con certe battute Per quanto Il David Brent Di Ricky Gervais A me piaccia Michael Scott Lo trovo Molto più interessante Molto più umano Molto Molto più Coccolone Cioè Michael Scott In alcuni momenti Ti viene voglia Di abbracciarlo Cioè ci sono proprio Delle scene In cui tu Ti dispiaci Per Michael Scott Perché Michael Scott È una brava persona E c'è una cosa Che io adoro Di quel personaggio Ovvero il fatto Che per quanto Lui sembri Un idiota In realtà Poi Lo vedi Che sa Fare il suo mestiere Cioè Se alla fine La sua filiale È quella Che macina Sempre più guadagni Se comunque Di riff o di raffa È sempre riuscito A portarlo avanti È perché Qualcosa di buono Deve averlo fatto E ci sono molti momenti In cui tu capisci Che Michael Scott Non è un idiota Anzi Ce n'è uno in particolare In cui vedi che lui Fa una cosa E la fa Bene Cioè Si mette contro tutto E contro tutti E lo fa in un certo modo Consapevole Di quello che sta facendo Per cui Secondo me È un personaggio Che Ha delle sfaccettature Straordinarie E Ma non solo lui Cioè io prendo Michael Scott Come esempio Ma in realtà Tanti altri personaggi Sono interessanti Ad esempio C'è un personaggio Che è proprio Creato per essere odiato Che è Ryan Howard Ryan Howard Interpretato da BJ Novak BJ Novak È Una Personalità Molto importante Per la serie Perché non è solo Ryan Howard È anche uno Dei maggiori Sceneggiatori E infatti La relazione tra Ryan Howard E Kelly Kapoor Anche lei Sceneggiatrice Tra l'altro Produttrice Comunque Anche lei Mi pare Che ha sceneggiato Delle puntate È presa direttamente Dalla relazione Dei due attori Cioè i due attori Per anni Hanno avuto Una relazione Molto tossica E hanno dichiarato Che alcune Delle cose assurde Che Ryan e Kelly Fanno sullo schermo Sono liberamente Ispirate A cose assurde Riguardanti La loro relazione Hanno detto Non è che fosse Così tanto tossica Per l'amor del cielo Però era una relazione Sicuramente tossica Quindi hanno detto Non è proprio identica Identica Ma sappiate Che alcune cose Che avete visto Non sono poi Così tanto distanti Dalla realtà E questa cosa A me piace Perché è anche bello Che BJ Novak Dica Va bene Io sono uno Degli sceneggiatori Della serie A un certo punto È anche produttore Esecutivo Comunque lui Ci ha lavorato Tanto a The Office E dica Io prendo per me Il personaggio Più fastidioso Di tutti Quello più immorale Quello che incarna Ciò che non va Nella società americana È Ryan Howard È la distorsione Del sogno americano Completa Proprio totale Quindi Da quel punto di vista Secondo me Hanno fatto veramente Un ottimo lavoro È una serie Tra l'altro In cui ad esempio La musica Non c'è Se non diegetica Cioè se c'è la musica In alcune scene È perché la stanno Ascoltando O cantando I personaggi Perché essendo Una docu serie Una moku serie Chiamiamola così La musica Non c'è È tutto Reale Capito Per cui Quando la senti È perché È diegetica Perché la stanno Ascoltando I personaggi Oppure perché magari Hanno voluto inserirla L'hanno voluto inserire Specificamente Ma È veramente Raro Ecco Quindi Mi piace che Abbiano deciso Di fare una cosa Del genere Cioè non era semplice Dire facciamo Una serie documentario Che peraltro È tratta Da una serie britannica La facciamo ancora meglio Non è affatto facile Poi c'è un personaggio In particolare Che io amo Con tutto me stesso Che è Creed Bratton Che è interpretato Da Creed Bratton Che non è il vero nome Dell'attore Che sostanzialmente È un po' tipo L'inserviente di Scrubs In quel caso Interpretato da Neil Flynn L'inserviente in Scrubs Non aveva quasi mai Una vera e propria sceneggiatura Per lo più Aveva un canovaccio E poi lui andava a improvvisare Infatti La maggior parte Delle scene più esileranti Dell'inserviente in Scrubs Sono improvvisate Creed Non aveva Un vero e proprio copione Lo mettevano lì A sparare Cazzate Cioè la maggior parte Delle scene Con Creed Voi potete notare Io faccio sempre questo Quando una serie La distruggo Perché io sono Sto facendo questo video Perché sono reduce Dall'ennesimo rewatch Ok Quando io riguardo La serie Faccio il giochino Di Quando arrivano Le battute Più divertenti Guardare le facce Dei personaggi Che sono lì intorno Quando parla Creed Fateci caso Nel 99% Dei casi Ci sono gli attori Che o fanno così Oppure li vedi Che stanno trattenendo Una smorfia Perché pare Che quando lui Aveva le sue scene La gente non riusciva A star seria Perché pare Che fosse veramente Un pirla Nel senso più buono possibile E che buona parte Delle cazzate Che il personaggio dice Lui le dicesse Senza che gli altri Sapessero cosa avrebbe detto Ed effettivamente Ci sono dei momenti Tipo C'è un momento Anche con Dwight Che secondo me C'è proprio una scena Che secondo me Ci hanno messo 20 anni a girarla Perché lì vedi Che sono tutti Al limite È una delle ultime puntate Della serie Nella nona stagione Ve la dico tra poco Adesso faccio un po' di spoiler Giusto per dirvi alcune cose Alcune evoluzioni Di personaggi Però sono morto da ridere Proprio per il fatto Che per l'appunto Ci sono dei momenti In cui gli attori Non riescono a trattenersi Per cui È una serie Che è andata avanti tanto Comunque nove stagioni Non sono affatto poche Con cali di ascolti Però significativi Fino a un certo punto È ovvio che verso la fine Dopo tanti anni C'è un po' di stanca Però Rispetto a altre serie The Office È sempre riuscita A introdurre novità In ogni stagione Personaggi che arrivano Personaggi che se ne vanno Colpi di scena Perché comunque Ci sono tante cose Che succedono Assurde Nel corso Delle varie puntate Che ti fanno pensare Cazzo Voglio continuare a guardarla Quindi secondo me La chiave Di The Office È quella Di non essersi mai Realmente arenata Magari La questione di Steve Carell È stata anche Per dare uno scossono Allo show Dire Va bene Facciamo una cosa Togliamo Michael Scott Peraltro È uno di quei rari casi In cui Un personaggio Viene tolto Non perché l'attore Non ne può più Ma per ragioni Differenti Solitamente Quando ci sono Personaggi carismatici Che fanno sì Che l'attore Riceva tante offerte E vada a fare Magari film E quant'altro Quel personaggio A un certo punto Se ne va Proprio perché L'attore dice Ragazzi Io non ho più tempo Grazie per tutto Quello che avete fatto Non mi dimenticare Ma la mia carriera Deve decollare Io non posso più Stare qui Succede Oppure L'attore Si è rotto i coglioni Guardate ad esempio Jim Parsons In The Big Bang Theory Che a un certo punto Ha detto Ragazzi O mi date un milione Di dollari A puntata O me ne vado E loro hanno detto La serie sta andando bene Ti possiamo dare un milione Di dollari a puntata Ma se non fosse stato per quello Jim Parsons Si sarebbe lavato di culo E quante cose importanti Dopo The Big Bang Theory Ha fatto Jim Parsons Esatto Quante cose importanti Ha fatto Steve Carell Dopo The Office Esatto Perché The Office È stato un trampolino di lancio Insieme poi a anche Una settimana da Dio Eccetera Per Steve Carell Il quale poi È finito A fare filmetti Tipo Fox Catcher Per cui se non sbaglio L'avevano anche candidato agli Oscar O la grande scommessa Per cui Carell forse Ha giovato Dalla sua andarsene Da The Office Dal sua andarsene Più non lo so Perché Anche se non l'ha voluto Da quasi l'idea Che comunque Lui poteva fare Tranquillamente anche altro Che non aveva bisogno Di The Office Quindi ci sta Secondo me Per cui È una serie Che io avevo mal giudicato Non so come mai Ma le prime puntate proprio Non mi avevano fatto impazzire Non Non lo so Mi sembrava tutto troppo esagerato Troppo cattivo Poi mano a mano Che vai avanti Ti rendi conto Che È una serie Straordinaria Peraltro Secondo me È anche Una serie Che narrativamente Parlando Porta L'idea della comedia Ad un livello successivo A mio modesto parere Cioè Non si vedono Tante comedi Fatte in quel modo lì Non se ne vedono tante Tra l'altro Chiudere una serie Dopo nove stagioni È difficilissimo In generale Chiudere una serie Non è una cosa semplice The Office Per me Ha un finale Veramente commovente E Non dico perfetto Ma calzante Perché comunque Riescono a chiudere In una maniera Sensata La maggior parte Dei personaggi A parte forse un paio Io vi dico che Quello che fa Quello che fa Creed Nel finale A me fa morire da ridere Ma vabbè E quindi insomma Chiudere così bene Dopo così tanti anni Non era facile Io ogni volta Che vedo il finale Di Office Mi commuovo Perché è un finale Realistico È la vita che va avanti È veramente Veramente Un finale Soddisfacente E non è scontato Quindi Secondo me È stato un gran Bel esperimento Io spero sempre In una Reunion Tipo Una roba tipo Tre puntate Capito Tre puntate speciali Mi piacerebbe Tantissimo Per dire Io Adoro What we do in the shadows Altra scoperta Da parte di Svet Che mi ha detto Guardiamo questa Guarda questa Perché fa morire da ridere Perché Perché What we do in the shadows È una serie Che è in profondo debito Con The Office Non solo perché Comunque un mockumentary Ma quello È più relativo Al fatto che È tratta dal film Di Taika Waititi Che era Un mockumentary Già di suo Però È strutturata Molto La The Office Infatti Al suo interno Ci sono tanti personaggi Di The Office Come ad esempio Colin Robinson Che è interpretato Dallo stesso attore Che in The Office Interpretava Nate Il magazziniere Mezzo sordo Che arriva Nelle ultime stagioni C'è anche C'è anche l'attore Che interpreta Daryl Philbin Che peraltro È lo stesso Che interpreta Doug Judy In Brooklyn Nine Per citare Un'altra comedy Di cui io vado pazzo Non quanto Vado pazzo Per Scrubs E The Office Però anche Brooklyn Nine È carina Non si può negare Che sia una serie Divertentissima E anche quella Anche quella È in debito Nei confronti Di The Office Perché Tutti i creatori Buona parte Gli attori Hanno sempre D'essere grandi Fan di The Office E infatti Ci sono Vari cameo Di attori Che hanno interpretato Personaggi storici Di The Office Come quella Che interpreta Meredith Palmer Ad esempio Per cui Secondo me The Office Ha influenzato Ha anche avuto Il merito Di avere influenzato Tantissimo La cultura pop E altre comedy Che sono arrivate dopo Se non ci fosse Stato The Office Ad esempio Non avremmo avuto Brooklyn Nine E What We Do In The Shadows Come le conosciamo Sarebbero state diverse Perché sono in grande Debito con The Office E tra l'altro Un'altra cosa Che io adoro Di questa serie È il fatto che Credo Sia la serie Con il numero Di cameo Inaspettati Più alto In assoluto Non dico nulla Nel caso in cui Non l'aveste vista Però direi Che dopo Quello che ho detto Finora È abbastanza chiaro Che se non avete mai visto The Office Per un qualunque motivo Forse è il caso Che metteste la parte Eventuali pregiudizi Ed andaste a guardarvela Perché credetemi Se vi dico Che ne vale la pena Per cui Adesso posso parlare Diciamo in maniera Un pochino più spoilerosa Quindi se Tra di voi C'è qualcuno Che ha già visto la serie E vuole sentirmi Parlare un po' più Nello specifico Lo farò adesso E siete avvisato E siete avvisati Con tutto che Secondo me Si poteva fare Una recensione Super spoilerosa Dall'inizio alla fine Però Ho notato Che le volte Che parlo Di The Office Molti mi dicono Mai vista Per cui ci sono Molte più persone Di quelle che potreste pensare Che la serie Non l'hanno mai guardata Quindi Netflix Prime Video E passa la paura Allora Io credo che I siparietti Jim Dwight Siano le cose migliori Ad esempio Ce ne sono alcune Che a me fanno morire Da ridere Che sono le mie preferite Che sono le Diciamo gli sketch D'apertura Prima della sigla Allora La mia preferita Rimane quella Del Dwight Del futuro Non posso Non morire Ogni volta Che la guardo Quando Jim Siccome è deluso Perché Pam L'ha respinto Accetta il trasferimento In un'altra filiale E E ruba però Della carta intestata Di Dwight E gli manda Dei fax Fingendosi Dwight Dal futuro E c'è la cosa Del Dwight Qualcuno Avvelenato Alle nove Qualcuno Avvelenerà il caffè Evita che lo bevano Seguiranno Futuro Istruzioni Firmato Dwight del futuro E c'è questa scena Con Stanley Che sta per bere il caffè E c'è Dwight Che urla No E gli fa cadere La tazza per terra E gli dice Mi ringrazierai Quella scena è fantastica Ma anche Nella nona stagione Una Delle scene Più iconiche Di The Office È quella Del gym asiatico Con Dwight Che entra in ufficio E vede questo Tizio asiatico Seduto alla scrivania Di gym Che dice di essere gym E lui dice Tu non sei gym Gym non è asiatico Il tizio la guarda E fa Beh Non te ne sei mai accorto Good for you Buon per te Che non ragioni in quel modo Che non guardi il colore Da pelle Complimenti E È bellissimo Perché Dwight Dice Pensa Sono credulone Ma non così tanto Tu non sei Gym E arriva punk E dice Ciao gym E gli dà un bacio Sulla bocca E c'è il momento Di intervista A punk Che dice Gym è dal dentista E c'è questo nostro amico Che è un attore Allora abbiamo pensato Di fargli uno scherzo Allora si vede Dwight che dice Tu non sei gym Questo è gym Prende la foto Dalla scrivania di Pam E c'è questa foto Con Pam Questo tizio Asiatico Con i due bambini Che però sono asiatici Anche loro E c'è Dwight che va Ma come Ah Cioè quella scena Mi ha ammazzato Da ridere E mi ammazza ancora Di più da ridere Se penso Che il gym asiatico È Randall Park Cioè L'agente Jimmy V Dell'MCU Che è diventato Famoso E la sua carriera È decollata A partire Dallo sketch Del gym asiatico Quante serie Arrivate Alla nona stagione Hanno Delle battute Così iconiche Così travolgenti Da lanciare La carriera Di un attore Che è comparso Esclusivamente In due minuti Di sketch Quante È vero Che arrivati Alla nona Gli ascolti Erano in calo Rispetto al passato Siamo tutti d'accordo Però Se io guardo La nona stagione Ha alcune delle battute Più belle della serie Cioè ad esempio Prima vi parlavo Di una scena Che è un altro sketch Di apertura In cui gli attori Erano palesemente Sull'orlo Di una crisi Perché non riuscivano Si vedeva proprio Che non riuscivano A non ridere Che è quella In cui muore La zia Shirley Di Dwight E lui Deve Fare la cerimonia Del lanciare Cioè c'è il funerale Dice Adesso passerò Tra di voi Vi lancerò in faccia Del terriccio Nero E acidico Se non siete Invitati al funerale O del terreno Rosso e fertile Se siete invitati Al funerale E c'è lui Che gira con questo Secchiello E inizia a lanciare Le manate di terra In faccia alla gente E lì vedi Che ci sono proprio Tutti Che sono così Ma anche Rain Wilson stesso Lo vedi Che tipo Abbassa la testa Perché non riuscivano A non ridere L'avevano detto In un'intervista Ma quella Dicono che è stata Una delle scene Più difficili A girare E peraltro È una delle mie preferite Perché io adoro Quando ci sono Le urla tagliate Perché c'è Gin che dice Mi dispiace Immagino che sia difficile Edwil che dice I miss her so much E fa per lanciare La terra Ma l'urlo È tagliato E parte subito La sigla Io lì muoio Esattamente come Una delle scene Più famose Che è diventata Un meme incredibile Che è quella Del No God Please No God No Quella è una Delle più Famosi in assoluto Assolutamente Quindi Anche quella Per quanto mi riguarda È divertente Che Fa parte Della rivalità Tra Michael E Toby Con Michael Che detesta Toby E peraltro È cattivissimo Il modo in cui Michael si comporta Con Toby Cioè In altre serie Cattivere come quelle Non le potresti Far dire A dei personaggi Se non fosse Che hanno costruito Michael Scott In modo che Sia una persona Patetica A cui ti affezioni Quando tratta male Toby Ti viene da ridere Allo stesso tempo Ti dispiace per Toby Ma capisci Che Michael lo fa Perché è una persona Con dei problemi Proprio Suoi Nei confronti Di persone Che lo fanno Anche sentire triste Toby è una persona Poverina Depressa Eccetera E Michael lo tratta male Perché lo fa Sentire male Cioè Toby è l'anti Michael Scott Toby è un Che poi è un personaggio Che si evolve abbastanza Anche lui Rimane sempre sul Loro te lo vogliono Far vedere patetico Però il punto Che a un certo punto Lui stesso Si rende conto Di questa cosa E cerca di giocarci Un po' su Ma parlando di Toby Non so se conoscete Quella teoria Dei fan Che mi ha sempre Fatto molto ridere Sul fatto che in realtà Toby fosse Il vero strangolatore Di Scranton Perché c'è tutta quella Gimmick su lui Che a un certo punto Fa parte della giuria E poi Anni dopo È convinto Di aver sbagliato A giudicare colpevole Scrub Cioè il tizio Si chiamava Scrub di cognome Il tizio Che era stato identificato Come strangolatore E Nelly Per far sì Quelli smettere Di parlare Di quella storia Spacchi e cazzo tutti Lo porta a fare un confronto Dove lo strangolatore Poi In prigione Lo cerca di strangolarlo E Nella serie dicono Beh almeno Ti ha Ti ha Ti ha confermato Di essere lui Lo strangolatore Secondo alcuni fan Ovviamente una teoria Quasi scherzo Che però A me piace un sacco In realtà Lui è lo strangolatore E quando va Cioè Ha fatto incastrare Quell'altro E quando va in galera In realtà Lui gli avrebbe detto Che è lui Il vero strangolatore E il tizio Ha cercato di strangolarlo Proprio per questo Ovviamente Non credo sia così Però è una teoria Dei fan Che mi ha sempre Fatto morire Dal ridere Un personaggio Che non ho mai apprezzato Troppo è proprio Daryl Perché Daryl è stato caratterizzato Come uno stronzetto Antipatico e permaloso E c'erano dei momenti In cui io pensavo Minchia basta Questo Ma no mamma Rilassati un po' Però è fatto così Cioè il personaggio Deve essere così Io penso a Andy Bernard Andy Bernard A un certo punto Diventa iper patetico Secondo me Poteva esserlo Anche un filino di meno Nel senso che A un certo punto Gli va male Qualunque cosa Possa andargli male Però Tutto questo È finalizzato Al bellissimo finale Che sono riusciti A dare alla serie Cioè Il finale È per quanto mi riguarda Perfetto Perché Tutte le sottotrame Vengono Chiuse Per bene Tutti i personaggi Hanno una loro chiusura Alcune sottotrame Vengono chiuse bene Altre vengono chiusi Un po' a cazzo di cane Ma non a cazzo di cane Però in maniera simpatica Ecco Non a cazzo di cane Inteso come male Un po' La buttano un po' In vacca Tipo non lo so Ryan e Kelly Che scappano Mentre sono amati I moni di Dwight e Angela Scappano Lasciando il figlio Di Ryan A Ravi Che è il marito di Kelly Ravi Che è un pediatra Dice Dice Kevin Senti Io mi sono rotto le palle Di quella lì Tieni questo bambino E chiama gli assistenti sociali Le denunciano abbandono E Nelly Che ha sempre voluto un figlio Prende il bimbo Da Kevin E dice Beh facciamo che lo tengo io Se Ryan vuole E può venire a riprenderselo Quindi Il fatto di Nelly Che avrebbe sempre voluto un figlio Ma non le concedevano L'adozione Lo risolvono così Però ad esempio C'è La questione di Andy Che è chiusa molto bene Perché lui Dopo essersi licenziato Per fare un'audizione In un programma In stile American Idol Fa una figura di merda Perché lo scartano E si mette a piangere Diventa un meme virale Sembra che Mezza America Lo odi Lo invitano per scherzo A fare una conferenza Alla Cornell L'università Di cui parla sempre A cui è legatissimo E alla fine Fa un discorso Realmente ispirato Tanto che Quelli della Cornell Lo assumono all'ufficio matricole E lui Dice questa frase bellissima Quando ero Alla Dunder Mifflin Non facevo altro Che pensare Alla Cornell Alla mia giovinezza Adesso che ho il lavoro Dei miei sogni Non faccio altro Che pensare Ai miei colleghi Gli ufficio qui Cioè Lui sta facendo il lavoro Dei suoi sogni È contento Però ti fa capire Che quelli dell'ufficio Hanno toccato il suo cuore Esattamente come lo fecero I compagni di università All'epoca Cioè È un bel finale Perché alla fine Andy Bernard Che è sempre stato patetico Ti fanno capire Che era Un omino patetico Perché lui avrebbe Sempre voluto Lavorare Per quell'università Che era l'unico luogo In cui si fosse sentito Di appartenere Ma Facendo qualcosa Che credeva di non volere Si è creato Un altro luogo Di appartenenza Che è l'ufficio Solo che il punto Che non era Non era il luogo Per il luogo In cui doveva lavorare Il luogo in cui doveva lavorare Era quello In cui aveva sempre Desiderato Desiderato essere Ecco Quindi Parlando invece Dei cameo C'è una roba Che Cioè Ci sono tanti cameo Che io non mi sarei mai aspettato Parlavamo del finale Per dire Sul finale Si palesa La madre di Erin Che è Joan Cusack Così A cazzo di cane E dici Ma come? Oppure c'è La parte dei colloqui Nella settima stagione Con Michael Scott Se ne va In cui a un certo punto Arriva anche Arriva un video messaggio Un video colloquio Da parte di David Brent Che è Ricky Gervais Che compariva già Qualche puntata prima In uno degli sketch D'apertura Con Michael Scott E David Brent Che si incontrano Già quella cosa è bellissima Ma non solo Nei colloqui A un certo punto C'è John Oliver Ma soprattutto Si parla Di questo tizio Che continua A insistere Sul fatto che Prima di iniziare a lavorare Vuole fare È in gita Con la famiglia Quando fanno Le mie interviste Alla fine Oltre a esserci James Spader Che poi È stato confermato Come personaggio Nella stagione successiva C'è Jim Carrey Completamente a caso Oppure A un certo punto La Dunder Mifflin Viene comprata Dalla Sabre E La CEO Dalla Sabre È Katie Bates A un certo punto C'è Amy Adams Insomma È pieno Veramente Pieno 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 Di cameo Incredibili E io ogni volta Penso Quando vedo Questi cameo Dico Boh A un certo punto C'è Bob Odenkirk In una puntata C'è Bob Odenkirk Che interpreta Un personaggio Simile Michael Scott Cioè io mentre la guardavo Dicevo Ma da dove cazzo Perché Perché tutti Sti cameo Incredibili Poi ce ne sono anche altri Adesso Non me le riesco a ricordare Tutti così a memoria Anche se l'ho appena vista Perché sono talmente tanti Per dire Di Angelo Vickers Che è un po' più Che un cameo Quando Michael Scott Se ne va Per qualche puntata Per tipo Due o tre puntate Viene sostituito Da questo personaggio Che a un certo punto Poi Ha un incidente E E Non lo vedi più È Will Ferrell Cioè A un certo punto C'è questa Ci sono questi momenti Con Will Ferrell E Steve Carey Che cazzeggiano Io non so come facevano A stare serie Tre puntate Di Angelo Vickers Ma te lo ricordo Perché è proprio Will Ferrell All'ennesima potenza È proprio Will Ferrell Che fa Will Ferrell Io quelle cose Le adoro Vi giuro Per cui È veramente Una serie Che ha tante sfaccettature Poi Cambiano molto anche I rapporti Tra i personaggi Tutta anche Tutta la questione Di Angela e Dwight Con Angela Che a un certo punto Si sposa Non vuole più Sapere niente di Dwight Ma partorisce Questo bambino Che è palesemente Cioè Nell'idea Hanno preso un bambino Che possa sembrare Un po' Dwight Schrute Perché loro ti dicono Che gli Schrute Sono grossi Sono forti E lui Ha il sospetto Che il figlio sia suo Alla fine Scopre che il figlio è suo Si sposa con Angela Perché lui si rende conto Che in realtà Angela la ama E quindi anche quello È molto bello Con Angela Che è una bigotta Che giudica tutti Austera Che poi Stringe la sua amicizia Con Oscar Che è uno dei contabili Che ovviamente Ha fatto una cosa Molto brutta Lei Cioè Lei ha sposato Questo senatore Che era gay E lui Aveva una relazione Extraconiugale Con lui Cioè Lui andava Con il senatore Pur sapendo che Angela È la sua amica E Angela Quando lo scopre Cerca di farlo gambizzare Tra l'altro Quindi Ha questi momenti assurdi Oppure Riescono a fare battute Che mi fanno quasi sentire In colpa per aver riso Ad esempio Quando Michael Scott Esamina la cassetta Dei suggerimenti Dice Dai Qui qualcuno Sta proprio scherzando Guardate Cosa c'è scritto Vorrei che si desse Più attenzione Ai problemi Di depressione Lo vedete Firmato John Non c'è nessun John Che lavora qui E c'è Phyllis Che guarda Michael e dice Michael John Io che l'ho visto Quella cosa Ho detto No Perché Leggi Il bigliettino Di questo che dice Vorrei che si pensasse Di più Che si pensasse più Della depressione Scopri che il bigliettino Di uno Che è stato ignorato E che si è sparato È cattivissima Come battuta La prima volta Che l'ho sentita Sono morto da ridere Ma fa ridere Proprio perché È cattiva E inopportuna È per questo Che le battute Di The Office Secondo me Non sono invecchiate Più di tanto Perché Sono tutte così Sono tutte Anche le battute Razziste Non sono razziste Involontarie In Scrubs Ci sono un sacco Di battute Razziste Che secondo me Non erano volute Sono solo Invecchiate male Cioè razziste Magari non gravi Però battute Che ti fanno capire Che insomma Sono figlie del loro tempo The Office Quando ha battute Razziste Sono razziste Perché è il personaggio È il serie razzista In una delle prime puntate Forse addirittura Proprio la prima C'è la scena Di Michael Scott Che parla Che parla Con Kelly Quella del Cioè quella scena Io ero imbarazzato Per lui Ho detto No ti prego Cioè Il motivo per cui Io all'inizio Non ho più guardato The Office È perché io Mi imbarazzavo Per quello Che faceva Michael Scott Ma perché La verve Della serie Parte Dalla sesta puntata E poi non si ferma più Le prime 5 o 6 puntate Secondo me Fanno parte Di un tipo di comicità Talmente diverso dal solito Talmente strano Talmente cattivo Che a un certo punto Tu pensi Boh Non hanno ancora Espresso tutto il potenziale Perché È veramente diverso Da tante altre cose Che si sono viste Fino a quel momento Per cui È normale Che ci sia Un po' di diffidenza Però se poi Continui Ti rendi conto Che Non puoi più Farne a meno Forse L'unico personaggio Un pochino Magari Invecchiato È Kevin Che Tra l'altro Quell'attore Vi giuro Si chiama Brian Brown Burt Una cosa del genere È Tom Hanks Con 50 kg In più Cioè se lo guardate È Tom Hanks Con meno capelli E più Corpulento Però la faccia è quella Quel personaggio Non ha una reale evoluzione Perché dall'inizio Alla fine È Cioè Le battute che lo riguardano È perché È sovrappeso E perché è stupido Le due cose Non sono collegate ovviamente No perché Se no poi Dica Ecco La solita rappresentazione Della persona Della persona Soprappeso Che è anche tonta In effetti In effetti Da quel punto di vista Forse il personaggio Un meno riuscito A me fa ridere Per le cose che dice Le cose che fa Però Se tutti i personaggi Hanno un minimo Di evoluzione Lui effettivamente Rimane sempre lì Ma perché funzionava In quel senso La scena di lui Che porta il C E lo rovescia per terra E cerca di raccogliere Con i fogli di carta Fa morire da ridere Però è anche vero Che per nove stagioni L'evoluzione di Kevin Non va oltre il È stupido E fa ridere Perché mangia Effettivamente Forse il personaggio Meno riuscito Però fa comunque ridere Cioè Per le cose più che altre Per come dice le cose E Tutti gli altri Hanno una loro evoluzione Anche la Ad esempio Io ho sempre detestato La cosa Di Pam Nella nonna stagione Cioè A me Mi dà fastidio lei E mi dà fastidio Il modo in cui Jim risolve la cosa Perché Jim Può fare il lavoro Dei suoi sogni Ma deve andare a Philadelphia Pam Cerca di supportarlo Ma non lo fa mai veramente Addirittura A un certo punto Dice no Però io A me piace la mia vita Scranton Perché io li faccio Lei Cioè Pam Di base È una persona Un po' frustrata Ok Ha provato a fare La scuola d'arte Ma non se la sono cacata Insomma Sostanzialmente Aveva fatto il corso Digitale Ma l'avevano bocciata Sostanzialmente Lei Non ha questo Gran talento Nell'arte Però a Scranton Ha iniziato a farle fare Murales E quindi è contenta E lei vuole questa Bella vita di provincia Il marito Ha il lavoro Dei suoi sogni Dopo anni passati A lavorare Per un'azienda Cartiera Per un lavoro Che non lo fa Impazzire E inizia a fargli Le pezze Fino a che lui A un certo punto Dice Se continuo così Perdo mia moglie Lascio stare E quindi Rinuncia a questo Grande sogno Di lavorare Con gli atleti sportivi Con i suoi idoli Per stare lì A Scranton E Jim Risolve questa cosa Dicendo Ma io sono contento E fa fare Fa ai tizi Del documentario Gli fa fare Il montaggio Con la musica E fa vedere Quanto lo ama Vero Però scusatemi Ma quello Il modo in cui Pam Lo tarpa È terribile Perché quando lei Doveva seguire I suoi sogni Jim Glielo ha fatto fare E non gliela mai rinfacciato E lei che a un certo punto Ha lasciato stare Nessuno l'ha detto Rifarlo A Jim sì Pam non ha detto Chiaramente a Jim Non andare a Filadelfia Ma Jim ha capito Che se faceva così La perdeva Ed è stato costretto Infatti alla fine Lei si rende conto Della cazzata Che ha fatto Vende la casa E vanno a Austin Per lavorare con Con Athlip Si chiama Perché prima si chiama Athlid E poi Athlip Quindi Lei si rende conto Però Fino a quel momento Io Pam In quella stagione L'ho odiata L'ho odiata Perché poi faceva Un po' la Diciamo Entravo un po' Troppo in confidenza Con il microfonista Che era palesemente Innamorato di lei Tra l'altro Tutta la cosa Del documentario Verso la fine Mi piace che diventi Importante Mi piace che loro Diventino un po' famosi Perché il documentario Esce effettivamente Quindi diventa Tutto meta Il documentario Che tu stai guardando C'è effettivamente Nella serie Perché è quello Che stai guardando E quindi Crea un genera Del successo E una roba Un po' particolare Effettivamente Quindi rimasi Abbastanza soddisfatto Molto soddisfatto Poi C'è tutta la questione Di Michael Scott Michael Scott Esce di scena Secondo me In una maniera Abbastanza Interessante Cioè Fanno tornare Olly Che era quella Della risorsa umana Di cui lui Era innamorato Perché lui Michael Scott Ogni donna Che incontra Diventa il suo Grande amore Però in realtà Loro ti abitano a questo Olly si capisce Che è differente Infatti a un certo punto Dicono a Michael Beh però basta Michael ti fissi Sempre con le persone Dice no Olly Con Olly È diverso Olly È un'altra cosa Ed effettivamente Olly È la donna Della sua vita E piano piano Lui Le chiede di sposare Tra l'altro Con quella cosa Delle candele Bellissima E Quando Poi Olly Dice ci dobbiamo Trasferire in Colorado Lui se ne va E l'ultima puntata Di Michael Scott È bellissima Perché lui Non vuole dire A tutti che parte Cioè lui dice Parto domani E in realtà Parte un giorno prima E quindi C'è questa scena In cui c'è Gene Che capisce Che Michael Non parte il giorno dopo E Vaduri dice Domani a pranzo Ti vorrei Ti vorrei andare Ti vorrei portare Portare Cioè domani ti vorrei Portare fuori a pranzo Dice va bene E Gene dice Tu non te ne vai domani Vero E allora Michael Con gli occhi Dice no E allora G dice Sei stato il miglior capo Che si potesse avere Poi dice però Lasciamo stare gli addi Non diciamoci di adesso Diciamocelo domani a pranzo Quindi è bellissima Questa cosa Con lui Che accetta Che Michael Vada via prima E dice Siccome gli addi Sono strazianti Facciamo che ce lo diciamo domani Anche se sa che domani E che il giorno dopo Non si vedranno È bellissimo Poi Sono stati Secondo me bravi A far tornare Michael Per l'ultima puntata Con Dwight Che si sposa Jim Che deve fare la testimone Dice però purtroppo Non ti posso fare la testimone Perché il prete Dice che il testimone Deve essere più vecchio Dello sposo E quindi Io non posso aiutarti Dwight si gira E vede Michael E c'è Lì poi Gli hanno dato anche La battuta giusta Non so Sono È incredibile Che Non posso credere Che tu sia riuscito a venire E Michael risponde That's what she said Che è la sua battuta Che è il Che è il corrispettivo del nostro Come disse cicciolina Quella roba lì Capito È bellissima Quella scena è fantastica Io ci rimango Ogni volta mi viene da piangere Quando la vedo È veramente bella Anche se hanno richiamato Karel Gli hanno fatto dire Letteralmente una battuta Perché per il resto È lui lì che sorride Nelle scene corali Però è tornato Perché giustamente Siccome era giusto Far tornare Michael Scott Per l'ultimo episodio Quindi La maggior parte dei personaggi È una bella chiusura E Gli ultimi istanti Della serie Per me sono bellissimi Cioè È stato una Il finale di serie Secondo me È ottimo Non è semplice Far finire come si deve una serie Però The Office A mio modesto avviso Finisce in un modo Perfettamente soddisfacente Poi Ci sono delle cose Che non funzionano Ovviamente Dopo nove stagioni Qualcosa che non funziona C'è ad esempio A me è Robert California Che all'inizio È un personaggio misterioso Poi diventa solo un tizio visci E mezzo maniaco Boh Non mi piaceva Per quanto io adoro I James Spader Il personaggio di Gabe Non l'ho mai capito Era veramente irritante Io non lo sopportavo Cioè ogni volta che era in scena C'è un minchia che parla Ho capito che doveva essere Un personaggio sgradevole Però era troppo sgradevole Cioè a un certo punto Ti viene da dire Sì ho capito Ma che palle questo C'è un personaggio Veramente fastidioso Quindi diciamo che Ogni tanto Qualcosa non funziona Ad esempio La relazione Che c'è a un certo punto Nelle ultime stagioni Tra Daryl e Val Che viene completamente Cioè loro si mettono insieme Dopo due puntate Lui è già stufo Ma perché? Cioè per quale motivo Mi devi dare Questa storia là Nel personaggio Se poi non sai Come portarla avanti La lunghissima Storia d'amore Tra Andy E Erin E prima si mettono insieme Prima si girano intorno E non si riescono a parlare Poi si mettono insieme Lei scopre che lui è stato con Angela Che non glielo aveva detto E lo molla Si mette con Gabe Quindi lui sta male Poi si mette con Jessica E poi loro due Si mettono insieme Però poi lui prende Va con il fratello Va a fare un viaggio in barca Per venderla Dopo che L'hanno divorziato Insomma Un casino Torna E lei si è messa Con quello Con l'altro Con lo stagista Tutta questa Cioè questa cosa Si dipana In più stagioni Non ho mai capito Il senso Di creare Questa storia d'amore Travagliata Che non porta Assolutamente a nulla E infatti Dopo quella cosa Il personaggio di Erin È completamente inutile E si risoleva solo Quando incontro i genitori Nell'ultima puntata Quando c'è il dibattito Un anno dopo Del documentario Perché l'ultimo episodio È un anno dopo L'uscita del documentario Ti fanno vedere Come sono cambiate Le vite di tutti Boh Francamente Il finale migliore Hanno avuto Pam e Jim E Dwight e Angela Con Dwight Che è diventato Car È diventato manager Quella cosa è anche bella A me era piaciuto Ad esempio Il fatto che Andy Bernard Diventasse il capo Però dopo che L'hanno reso capo Non hanno fatto altro che Capito Il fatto che lui Fosse diventato capo A un certo punto Non era più inutile Infatti poi l'hanno tolto Non ha molto Non lo so Ci sono delle cose Che funzionano Un po' così Però nel complesso Rimane una serie Incredibile Quindi Assolutamente La guardare Se mai non l'aveste fatto Fatelo Fatevi sapere Cosa ne pensate voi In un commento qui sotto Non mi sono dilungato troppo Nel descrivere Le varie scene Quant'altro Le varie battute Perché sono veramente 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 Troppe Cioè davvero ragazzi In ogni puntata C'è una battuta Che mi fa ammazzare Da ridere Cioè è pieno Quindi fatemi sapere Qual è la vostra battuta preferita La vostra scena preferita Io vi ho detto Quali sono le mie Io vi abbraccio Vi ringrazio Grazie E noi ci vediamo Al prossimo Buon vlog Ciao a tutti